E' terminato sta amichevole tra il Lanciano e la Virtus Castelfentano, Virtus Lanciano ha vinto per 3 a 1. Si salutano il Lanciano con la maglia bianca mentre la Virtus Castelfentano con la maglia chiave. Si salutano tutti quanti, adesso devono fare l'allenamento gli amatori. Inizio tutti a farsi le docce. Sì sì perché devono giocare.